No, nel senso che se vi sono delle soluzioni tecniche, perché io... Però Marco, c'è la destinazione dei locali, scusa. Su quella io ti inviterei a... Siccome ho sentito, ho ascoltato la coppola che ha portato i risultati catastrali. Qualcuno dice il contrario. Ma questo qualcuno chiede, scusa. Ecco, allora io parlo di un'altra... Dividiamo, Nini. Diamo un nome e cognome, insomma, alle cose. Allora, diamo un nome e cognome alle cose. Problema della promiscuità negli accessi... È indiscutibile. È problema di... No, non è indiscutibile, caro Nini. Allora, il problema della promiscuità oggi è indiscutibile. Oggi. Ma se vi sono delle soluzioni tecniche che eliminano la promiscuità... Parliamo di promiscuità, peraltro, solo nella fase di afflusso e deflusso, peraltro legittime, quindi, no? Da osservare. Ma se si eliminano con soluzioni tecniche, il problema della promiscuità è un discorso superato. Poi subentra un altro problema, e cioè quella dell'esigenza di questi spazi, no? Da parte della scuola. Allora, primo, verificare, tu sostieni di aver visto anche tu le carte... No, no, abbiamo detto questo, ho ascoltato la coppola che... Secondo, non dimentichiamo che sono locali faticenti sui quali si deve fare un investimento, perché poi qui ci dimentichiamo tutto. Ma non erano ristrutturati questi locali? O per meglio dire, nel tempo, se temporaneamente sono stati adattati per l'uso che se ne faceva, allora oggi non sono totalmente agibili. Tant'è vero che una delle motivazioni che hanno spinto un'amministrazione, noi tutti, a votare quella delibera è anche perché c'era un impegno economico che veniva valutato come un canone di fitto, però concentrato in lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda la necessità di quegli spazi, quello è un altro capitolo, ed è per questo che ti sto dicendo che anche la Commissione Istruzione sta affrontando questo tema, perché se la scuola ha bisogno di spazi, perché noi non siamo in grado di dare ospitalità idonea, adeguata ai bambini del territorio in quella scuola, noi ce ne dobbiamo fare carico e noi saremo in prima linea. Verifichiamo le carte, tu da avvocato mi insegni che bisogna leggere i documenti anche da amministratore, e noi stiamo cercando di fare questo. Però consenti. Dopodiché, scusa, finisco io. Dopodiché, tutte le valutazioni possibili e immaginabili si potranno fare in questa o in altre sì. Io quello che sostengo, caro Nini, è che come amministratori noi dobbiamo sotto questo aspetto essere un po' super partes, invece si sta cercando, e lo dico io, non lo dice qualcun altro, paradossalmente di ideologizzare in modo strumentale un tema che potrebbe essere benissimo affrontato con soluzioni tecniche più che politiche. Naturalmente le soluzioni tecniche devono essere supportate da atti amministrativi coerenti e idonei. Perdonatemi se vi interrompo un attimo, abbiamo un ascoltatore che ci sta aspettando già da un bel po'. Pronto? Beh, beh, anche... Pronto? Non sentiamo nulla. Io volevo correggere il tiro perché voglio ricordare all'amico Bronzini, visto che questa sera parliamo tutti anteponendo la parola amico al cognome, allora voglio dire a Bronzini e voglio ricordare a Bronzini che di tutta evidenza è lodevole l'iniziativa della commissione istruzione che si adopererà per trovare gli spazi e per porsi il problema degli spazi alla scuola Mazzini, però consentimi di dire che è di tutta un'evidente contraddizione quando invece quegli spazi che già ci sono vengono sottratti. Non sono sottratti. No, ma scusami, ti prego, scusami. Non sono mai appassi, non sono mai appassi, non sono mai appassi, scusami, io non ti ho interrompo. Mi hai un po' interrotto. Va bene, va bene, abbiamo compensato. Dicevo, trovo paradossale che questi spazi, però quelli che ci sono, vengano sottratti. Non possiamo dire che non sono stati mai sottratti. Perché? Sai perché? Te lo spiego subito. Perché è da lontano 2007, se la mia memoria non mi inganna, che la scuola Mazzini rivendica all'amministrazione Emiliano e se non sbaglio con lettere indirizzate in prima persona allo stesso sindaco, oltre che all'assessore competente, all'assessore patrimonio, eccetera, l'utilizzo di maggiori spazi per una migliore fruibilità degli stessi in favore dei bambini. Questi sono i documenti, caro Marco, che noi purtroppo abbiamo ignorato perché non allegati a quella famosa delibere del 7 marzo. Perché se fossero stati allegati, probabilmente da quel confronto, in quell'occasione, sarebbe emersa una volontà certamente diversa e probabilmente forse sarebbe venuta fuori anche in tempi più brevi una risoluzione radicale del problema. Oggi a bocce ferme abbiamo una scuola con dei locali che salvo prova contraria e non ho motivo di non credere alla coppola che per telefono e pubblicamente afferma che quei locali hanno quel vincolo e quindi quella destinazione scolastica, vengono sottratti, sia pure per un'ulteriore, lo devo, l'iniziativa che è quella di attribuirli alla parrocchia per le persone bisognose. Però non possiamo poi dire, stiamo lavorando sul problema di dare maggiori spazi alla scuola quando già quelli che esistono, ed esistono da diversi anni, e sono rivendicati già dal 2007. Non ho detto maggiori spazi, non mi fa dire le cose che non ho detto. Hai detto di... Di dare gli spazi se questi servono alla scuola. Se la scuola ha maggiori spazi, se vuoi fare un gioco di parole è un discorso. Io dico che se la scuola ha bisogno di spazi, e per me la scuola, per mia cultura, la scuola sicuramente gli spazi che ha sono sempre insufficienti. La scuola ha sempre bisogno di maggiori spazi, in assoluto, perché cambia il modo di insegnare, cambiano le generazioni. Noi siamo stati forse abituati a vivere, come dire, l'epoca e l'età scolastica in maniera diversa, ma oggi con i passi in avanti che sono stati fatti in termini di istruzione scolastica, vorrei ricordare tra tutte la necessità di laboratori di informatica, o di gabinetti di chimica, voglio dire, di scienze. Credo che la scuola abbia bisogno di un'infia di spazi, per non dimenticare le palestre. Io ho fatto un sopralluogo una mattina alla Mazzini per rendermi conto, perché non conoscevo fisicamente quegli spazi, ho visto addirittura, se non sbaglio, due o tre classi che facevano educazione fisica, nella palestra l'ho scoperto, due o tre classi contestualmente e contemporaneamente. Io credo che questo non sia bello nel 2012, in un paese democratico come il nostro, civile come il nostro, consentire che addirittura due o tre classi vadano contestualmente a fare educazione fisica, attività di ginnastica. Non conosce lo stato della scuola a livello nazionale. No, ma voglio dire, la preoccupazione, io mi permetto, però la scuola naziana, signori, non ha la volta. Il governo Berlusconi ha tagliato fondi a tutta la scuola nazionale. Se fanno così da casa non capiscono nulla. Sicuriamoci che Berlusconi non c'è. Prima con la Moratti e poi con la Germini. Chiamerò il presidente Berlusconi e dirò che lui è responsabile anche per i problemi della Mazzini. Certo, sicuramente. Però non ci mancherebbe altro. Ma voglio dire, Berlusconi sta in tutte le minestre del mondo. Dicevo quindi, ma guarda, faccio mia colpa, faccio mia colpa. Io ho l'onestà intellettuale, va bene, di dire, c'è un problema della Mazzini, io sono stato io responsabile. Bene, dico pubblicamente, se così fosse stato, avrei detto pubblicamente, ho sbagliato perché effettivamente andava impostato in maniera diversa la problematica della Mazzini. Il problema è che oggi, come hanno detto i genitori, e hanno detto giustamente, dopo quattro mesi, tre mesi, che è stato sollevato il caso in sede istituzionale, ma il caso era stato sollevato da lontano 2007, il problema non è risolto. E allora, date una svolta radicale, assoluta alla vicenda, assumendo una responsabilità, voi che siete forze di governo e attanto siete stati chiamati dai cittadini, dai vostri elettori, assumete una decisione in via definitiva, con tutte le responsabilità del caso. E qui voglio ricordare al nostro sindaco Emiliano, che così bene ha parlato di responsabilità e di responsabilità di governo, che fosse il caso che lui dia in questa materia un esempio. Gli stiamo offrendo un piatto sul quale può dimostrare che responsabilità viene adottata dall'amministrazione nell'adottare un'iniziativa specifica rispetto alle esigenze. Ed è l'uno dell'ente parrocchia, le cui funzioni, ripeto, sono nobilissime, e chi vi parla è cattolico, credente. No, no, cattolico, credente, e dall'altro quella scolastica, sul quale penso... No, 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 no. Vi chiedo un attimo di bloccarvi, io vorrei fare una provocazione, consigliere Bronzini, lei giustamente prima ha detto noi su questa vicenda dovremmo essere super partes, però è anche vero che all'interno della giunta ci sono posizioni diametralmente opposte. Ieri, quando effettivamente durante il consiglio comunale nei corridoi ha cominciato a circolare questa voce della riconsegna delle chiavi alla parrocchia, c'è stata un'ulteriore spaccatura da una parte, ad esempio, Fabio Losito, l'assessore alle politiche giovanili di Selle, che diceva assolutamente no, non devono essere riconsegnate le chiavi, oppure l'assessore ai lavori pubblici Marco Lacarra, che diceva fosse stato per me, non avremmo mai dovuto toglierle queste chiavi. Forse bisognava togliere il cancello. No, il problema è molto semplice, e quell'accesso è un accesso non storico, lo è diventato, credo, dal 2000-2001, potrei sbagliarmi di qualche anno, per consentire l'accesso di alcune classi, poiché in quegli orari, credo, almeno questo è stato dichiarato, non veniva utilizzato da altri, di fatto vi era una sovrapposizione, una gestione quasi condominiale, usiamo questo termine, che non ha mai creato problemi. Io su questo però non lo ritengo sufficiente, perché in questo hanno ragione i genitori, ha ragione il dirigente scolastico, bisogna chiarire, perché la norma sulla sicurezza è chiara, perché tutto va bene fin quando non succede qualcosa, poi il responsabile è quello che paga. Quindi io sono il primo a sostenere, che in questo momento noi come amministrazione ci troviamo, con un tema di fatto da dover risolvere, un argomento da dover risolvere, e cioè una concessione in uso, che deve durare ancora tre anni, fino al 2015, perché noi abbiamo revocato la nuova, e di fatto l'applicazione delle norme della sicurezza. Io sono convinto che banali soluzioni tecniche possano ovviare a quello che attualmente potrebbe essere, perché non lo è, un problema di promiscuità, perché di fatto le chiavi non sono più in possesso della parrocchia, parrocchia che peraltro, voglio dire, pagava il passo carrabile, mi risulta da tantissimi anni, da sempre, quando dissi questa cosa in Consiglio Comunale, qualcuno ha provveduto la notte successiva a far sparire il cartello di passo carrabile, ma voglio dire, è un po' la giamburrasca, è una battaglia dei ragazzi della via Palla, che svolgono un ruolo forse un po' esasperante, per cui io sono convinto che al momento, come amministratore, se devo consentire l'esercizio di questa, la prosecuzione di questa concessione fino al 2015, devo trovare una soluzione tecnica. Se non trovo la soluzione tecnica, è evidente che le due realtà, scolastica e parrocchiale, non possono utilizzare lo stesso ingresso, ma se si trova la soluzione tecnica e qualcuno rifiuta questa soluzione tecnica, dobbiamo aprire un altro capitolo sull'argomento. Lei sta praticamente dicendo che è stata un po' strumentalizzata la faccenda, forse anche in vista della prossima campagna elettorale? Ma non c'è, io penso che su questo argomento ormai si stia parlando a ruota libera, senza avere, ecco in questo aveva ragione il Consigliere della Coppola, vediamo le carte, però quando ci sarà la soluzione tecnica, se viene posto, voglio vedere chi si tira indietro. Le chiedo di essere brevissimo perché siamo in chiusura. Chiudo velocemente, dico che sono un po' preoccupato sulla banalità degli interventi che sarebbero a questo punto in via definitiva risolutori. Sono preoccupato perché se la banalità è tale che dopo mesi e mesi non si riesce ancora a trovare la soluzione, figuriamoci se non fossero banali, cioè qui si parla di anni e anni per risolvere questo problema. È evidente che i problemi non sono assolutamente banali, sono problemi seri, che riguardano non solo la promiscuità dell'ingresso, ma ahimè, purtroppo, come dire, la dotazione di locali che la scuola rivendica e che naturalmente rivendica non per capriccio, ma per esigenze proprio logistiche, organizzative della stessa scuola. Per cui, ancora una volta, l'invito all'amico Bronzini a questo punto personale di suggerire agli uffici tecnici, visto che ci sono delle soluzioni banali o degli interventi tecnici banali, di dare questi suggerimenti per mettere la parola fine su questa vicenda, perché stiamo parlando da mesi e mesi di due istituzioni sulle quali non c'è nulla da discutere, ma come si può discutere sulla scuola e come si può discutere sull'opera caritatevole della Chiesa? È assurdo già che si sia arrivato a questo, però questi sono i miracoli che fa l'amministrazione di centro-sinistra. Di certo sono due istituzioni ugualmente importanti. Noi siamo in chiusura, siamo costretti a fermarci qui, ma questo è un argomento che promette di tenere banco per ancora molto tempo, quindi sicuramente ci torneremo. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati con noi. Mi è piaciuto tenere banco, perché sai, ci sta bene con la scuola Mazzini. Ringrazio Marco Bronzini, capogruppo della lista, Emiliano Perbari, grazie per essere stato con noi, e il coordinatore delle opposizioni, Grazie a voi per l'ospitalità. Noi ci fermiamo qui e torniamo la prossima settimana.